21 dicembre 1968, muore Vittorio Pozzo. Allenatore di calcio poliglotta, inflessibile e carismatico, vince con la nazionale italiana numerosi e prestigiosi trofei. Profondo conoscitore del calcio fin dagli esordi, inizia l'attività di allenatore col giovane Torino e poi come commissario tecnico della nazionale. Passati gli anni difficili della prima guerra mondiale, Pozzo viene richiamato alla guida della nazionale e a partire dal 1934 ottiene dei risultati straordinari. Due titoli mondiali, un oro olimpico e due coppe internazionali. La sua figura è da sempre associata al metodo e a una grande serietà professionale e morale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.